Ci troviamo oggi sul tratto di pista ciclopedonale di via Colbe, il vecchio tratto di ciclabile parallelo alla ferrovia e alla bicipolitana che si collega fino a Fano costeggiando tutta la zona mare. Siamo qui per rispondere alla segnalazione di un nostro telespettatore, un telespettatore disabile che vive con le difficoltà della sua condizione in un tratto che presenta tante situazioni di incuria, a cominciare dai rifiuti che regolarmente si accumulano e vengono ignorate le normali procedure di raccolta, ma anche una situazione di verde pubblico fuori controllo con tante erbacce che vanno a propagarsi sul tratto stradale con tutte le complicazioni del caso. Il telespettatore che ha chiesto l'intervento di Rossini TV abita nel complesso residenziale dei Gelsi, a pochi passi dalla sede pesarese di Confcommercio e al tratto ciclopedonale in questione. Su questo tratto affisso da anni una serie di cartelli che invitano perlomeno i padroni di cani ad avere cura dei bisogni dei propri amici a quattro zampe, perché quello che un basilare rispetto del senso civico diventa un problema aggiuntivo per chi è su una sedia a rotelle, anche perché se su questo tratto i rifiuti continuano ad accumularsi non fanno una fine troppo diversa agli incrementi animali. Quanto ai rifiuti, chi ci ha segnalato il problema non solo sollecita una raccolta più regolare di questi bidoni traboccanti, ma fa anche notare che il peccato originale sta nell'aver predisposto un solo cestino su un chilometro di ciclabile. Altro problema la vegetazione che invade la strada e qui la sollecitazione è un intervento di potatura o polizia almeno di un paio di volte l'anno, anche perché non c'è solo l'erba terra, ma c'è anche un'invasione di rovi pericolosa per chi transita in bicicletta. Un'incuria ma anche un paradosso, quello di uno stato d'abbandono che mal si concilia con un importante investimento in lampioni a led che illuminano il tratto ciclopedonale.